Salve a tutti! E allora il 5 agosto 2019 siamo al Borgo degli Angeli Oggi abbiamo festeggiato le nozze di Ignazio ed Enza Ovviamente mi manca il socio, però è dall'altra parte Noi intanto vediamo com'è andata, anzi chiediamola agli sposi Eccoli qua! Buonasera! Com'è andata? Benissimo, alla grande! Mi siete divertiti? Certo, tanto, tanto! Ancora Ignazio ha i postumi della sbronza Anzi si è ripreso, si è ripreso perché si è divertito Abbiamo parlato, ci siamo divertiti con voi Seppure una bella diretta andamocela a vedere sulla pagina Si va in scena E allora vi ringraziamo di tutto Complimenti, intanto Si va in scena Sceglierei altri mille volte Si va in scena Ve lo consiglio Peccato che Tonino non c'era ma fortunatamente, fortunatamente È andato bene con tutto lo staff Siete grandi, grazie Va bene, grazie a un mondo di auguri a Ignazio e Enza Grazie E noi chiudiamo, anzi io mi chiudo il video da solo Con Tonino che non c'è e con Valerio si va in scena